ciao a tutti cari amici cari amiche benvenuti nel mio canale allora oggi faremo un video completamente 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 diverso dal solito perché per chi ha visto la diciamo l'intro del mio canale c'è un video molto vecchio dove c'è l'intro il mio canale dove io vi faccio vedere faccio questi video questo video in cui vi dico un po quali sono tutti gli argomenti del canale magari lo metto su lo metto in descrizione tra questi c'è come argomento che avevo detto che avrei fatto le playlist e la voce della strega quindi non faccio soltanto le stese dei tarocchi interattivi rituali ma in questo video c'è anche c'è anche una sessione che si chiama potere femminile seduzione femminile eccetera eccetera quindi chiaramente questo questo a questi argomenti che sono più al femminile riguardano un po le dinamiche di coppia e possono essere visti chiaramente anche dai maschi non è che io faccio questi video soltanto per per le donne cioè le donne possono servire per la pratica e gli uomini possono servire per capire una donna se li sta palleggiando se li vuole sedurre oppure no quindi sono sono utili per entrambi in questo video che affronterò un argomento andando ad inaugurare questo questo settore qui della seduzione femminile dei rapporti di coppia quindi voi anche vedendo le stese tutto quanto potete anche integrarli vedendo questo genere di video oggi di che cosa parleremo inauguro questi questa nuova sessione la inauguro con due tecniche da usare in coppia la tecnica del mirroring è la tecnica della shocking wave shocking wave significa onda d'urto voi direte che cosa significa ecco qui in primis vi metto qui la carta regina che siete voi che sono io che siamo noi che è la carta della strega allora innanzitutto faccio una piccola premessa quando si parla di seduzione femminile si parla di controllo significa che in un in un rapporto in una relazione voi sapete che c'è l'uomo esiste l'uomo esiste esiste la donna oppure insomma per le coppie omosessuali bisessuali non è così però ci sono sempre c'è sempre un'energia maschile e un'energia femminile un'energia dominante un'energia ricevente quindi ribadisco è aperto a tutti questo video che significa quando si parla di potere femminile vuol dire che noi andiamo a fare un'opera di potere di controllo il che significa che io in quanto detentrice del potere femminile per forza di cose miro ad avere un controllo sull'energia sull'energia maschile controllo però che non è immorale non è qualcosa di negativo ma fa parte di quelle che sono i talenti le doti naturali della donna la donna possiede il potere femminio molto spesso questo è dormiente molto spesso nei rapporti soprattutto con l'era moderna si sono si sono a suoi fatti si sono addormentati vedete adesso sempre più spesso anche molte di voi che mi chiamano molto spesso mi parlano mi parlano di rapporti amorosi rapporti che vanno male donne che non si sentono apprezzate donne che sono state tradite donne che rincorrono gli uomini che è una cosa sbagliatissima quindi oggi voglio andare subito 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 sul pratico perché io credo che il potere femminio non credo è così potere femminio proprio un potere ancestrale potere dei poteri noi donne diamo la vita noi donne siamo la creazione possiamo essere paragonate all'universo possiamo essere paragonate a madre terra non solo per quanto riguarda il nostro potere creativo per tutte le donne che sono mamme sono diventate mamme possono diventare mamme ma la donna nasce madre anche a prescindere dal fatto se abbia figli abbia avuto figli o meno la donna ha in sé il potere creativo avere in sé il potere creativo vuol dire ottenere tutto ciò che vuole ottenere tutto ciò che vuole attraverso le proprie doti la donna è vista come un essere dolce a volte vista come l'essere debole sbagliatissimo povero l'uomo colui che crede che la donna sia l'essere debole povero sta ancora piangendo secondo me chi crede che la donna sia il sesso debole andiamo nel concreto molto spesso nei rapporti in base anche a quello che voi mi raccontate ci sono delle dinamiche che io quando le ascolto capisco non lo dico per criticare ma lo dico per farvi capire dove sta lo sbaglio molte donne sono completamente lontane distaccate da un potere che invece dentro di loro che è completamente dormiente quindi mi chiedono a ma lui c'è un'altra ma lui mi trascura mi ha bloccato e io l'ho richiamato con un altro numero cioè dinamiche di questo tipo qui io quando le sento mi rendo conto che la donna in questione che mi sta parlando sta facendo un casino sta facendo un casino poi anche con questi messaggi con questi controlli che ci sono messaggi messaggini facebook whatsapp instagram queste gelosie online lui mi ha contattato mi ha bloccato voi vi rendete conto che sono tutte dinamiche diciamo grossomodo nuove che prima non esistevano prima si usavano gli sguardi prima le donne uscivano con le amiche gli uomini uscivano con gli amici ci si incrociava gli sguardi ci si piaceva e c'era molta comunicazione non verbale cioè ci si guardava agli angoli delle piazze nelle strade al muretto e quella era la vera nella vera seduzione vero controllo c'è proprio un fisico voi pensate una donna che riesce ad ammaliare un uomo semplicemente con lo sguardo in mezzo alla strada adesso ditemi voi quante volte succede più questa cosa qui perché adesso una donna piuttosto si ritocca la sua fotografia su instagram si mette i filtrini magari è nucesse e invece poi con questi filtrini riesce a far boccare uno chatta non lo vede non lo sente è tutto più finto è tutto più finché magari si incontrano boh chissà che succede lui poi mentre chatta con te chatta con altre duecento persone e vedete quindi a livello di comunicazione noi siamo in una era nuova noi siamo in una era nuova che però non sempre in quanto donne sappiamo sappiamo gestire quindi facciamo un passo indietro a livello di seduzione a livello di captare l'onda l'interesse l'interesse di un uomo che cosa c'è c'è la comunicazione cioè io devo comunicare qualcosa a quell'uomo comunicare e devo ricevere un feedback cioè io lancio un messaggio un gesto un'occhiata o quello che sia e devo ricevere un feedback guardate bene anche il silenzio è sempre un feedback ed è anche sempre una risposta partiamo con un argomento del rosicone partiamo con argomento rosicone perché io devo devo agganciarvi a questo tipo di nuova nuove sessioni che faccio e quindi voglio fare un argomento che può piacere a tutti cioè come fare come fare rosica il titolo di questo video sarà come fare rosicare un uomo la tecnica del mirroring è la tecnica della shocking wave poi faremo altri video in cui parlerò come si manifesta della seduzione altre cose più sul generale ma adesso voglio catturare subito la vostra attenzione voi dovete partire da un principio nei rapporti nella seduzione ci sono due forze ci sono due forze contrastanti cioè nel senso voi in quanto in quanto donne sapete perfettamente se siete in una situazione di ricchezza o se siete in una situazione di povertà che significa essere in una situazione una sensazione di ricchezza vuol dire che voi per voi comunicate all'altro agli altri ma soprattutto la persona che vi piace voi comunicate il benessere voi comunicate all'altra persona di essere a proprio agio con la vostra bellezza voi comunicate abbondanza voi comunicate di avere tanto in quanto donna quindi qui parte la spocchia la donna con un po di spocchia è la prima caratteristica da avere se volete piacere a qualcuno un po di spocchia c'è una donna che si mostra sicura di sé una donna bella una donna che non gli manca niente quindi mettiamo subito i puntini sulle che l'uomo servo cioè se io sono la donna l'uomo se vuole fare l'uomo è bene se l'uomo invece poi vuole fare la donna siamo su qualcosa di naturale cioè la donna che va dietro un uomo è innaturale e contro natura quindi in primi se staccatevi per quanto possibile tutte quelle dinamiche dove voi capite che c'è uno squilibrio dove voi al 60 al 70 per cento andate appresso a qualcuno e con la persona vi dà un feedback del 30 già lì è una situazione da mollare peggio ancora come fare rosicare un uomo molto spesso questi qui che cosa fanno gli uomini spesso cercano soprattutto nei confronti delle belle donne delle ragazze delle donne hanno loro un potere manipolativo perché chiaramente non è che soltanto la donna ha i suoi strumenti ce li ha ce li ha anche l'uomo l'uomo che spesso che strumento può utilizzare l'uomo utilizza per esempio le cosiddette triangolazioni cioè queste siete voi questo è lui e lui fa capire che c'è l'uomo diciamo lo fa in maniera un pochettino più velata rispetto alla donna e fa intendere che magari c'è l'amica c'è la collega che lo chiama si fa chiamare in orari strani in modo tale che ci sia sospetto da parte l'uomo è sempre più velato rispetto alla donna anche più ipocrita vuole essere più pacere vuol far passare voi come le pazze come le gelose eccetera eccetera sbagliatissimo mai 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 fare scelate al vostro uomo cioè rinfacciando cioè facendo capire che la terza diciamo la terza incomoda la persona se lui se lui sta facendo una triangolazione con un'altra donna è semplicemente perché vi vuole fare innervosire quindi già partiamo dal principio che un uomo del genere è un cretino perché un uomo invece che vuole sedurre la propria donna cerca di essere gentile con lei cerca di essere galante cerca di farla sentire a suo agio sicura protetta non la mette in competizione nella situazione di essere in competizione con altre donne quindi già partite dal principio che se un uomo vi fa questi giochetti è un cretino come ripagarlo e come farlo rosicare la tecnica del mirroring mirroring che significa specchiare significa tenere un comportamento speculare a quello suo ok allora se questo è l'uomo è per esempio vi fa trovare facciamo tanti esempi dal più stupido al più grave vi fa trovare che ne so io voi lo controllate sui social perché voi controllate sui social lo so voi lo controllate sui social incominciate a vedere che ne so che l'amica c'era sempre la stessa persona che le mette mi piace il cuoricino la cosa così o lui a lei e lei già delle foto un po così sbagliatissima fare la scena te gelosia chi è questa ho visto che ti mette le cose voi notate recepite recepite che questa triangolazione perché chiaramente è una triangolazione che la fa per darsi per farvi creare un'insicurezza e fare la stessa cosa però triplicata cioè qui ci vuole la spocchia dovete essere non solo molto vanitose non solo flertare e farglielo notare pure voi a lui ma farlo farlo proprio con spocchia cioè proprio con spocchia diventando anche antipatica cioè nel senso che se lui nega è un insieme delle due tecniche allora il mirroring cioè voi fate esattamente quello che fa lui però lo fate diciamo moltiplicato per tre cioè che ne so io che se lui ha messo tre mi piace di seguito alla stessa persona andate voi pubblicata una foto in costume vi fate bombardare da mi piace che in in contemporanea e sia un mirroring cioè io faccio la stessa cosa che hai fatto tu ma è anche una shocking wave c'è un'onda d'urto cioè qualcosa che tu proprio ti è come se fosse che lui gli arriva uno schiaffone in faccia perché non se l'aspetta soprattutto se tu che stai sentendo questo video ti sei sempre comportata con lui come una sottona la donna sottona chi è la donna sottona è quella che dipende dall'uomo è quella reattiva cioè che l'uomo tiene un comportamento per farti arrabbiare e tu ti arrabbi se tu ti arrabbi perché lui ti vuole far arrabbiare stai sotto di lui sei una sottona se lui sta triangolando con un'altra e tu gli fai la scena di gelosia fai ottenere a lui importanza perché stai mettendo su un piedistallo perché lui chi cazzo c'è lui è uno che sta cercando di distruggere un rapporto sta semplicemente cercando di ergersi su un piedistallo creando in te l'insicurezza e lui si sente sul piedistallo perché un cretino nel momento in cui lui ti sta facendo questa triangolazione con un'altra se lui ti fa qualsiasi triangolazione con un'altra tu devi ribaltare la frittata e lo devi fare rosicare tu a lui l'amica che lo chiama lui che esce con l'amica per carità parliamoci bene se uno c'è un'amica non c'è niente di male io sto parlando di situazioni dove è palese che c'è c'è del civettamento sotto dove voi ma quanto è buono dove voi avete sgamato già cose più grosse oppure una ex insomma no non c'è niente di male se uno c'è una mica la mica ma non rimaniamo con i piedi per terra in quel caso lì se voi vedete che lui vi mette sempre in competizione con qualcuna voi vi siete era perché poi chiaramente quando io vi dico non vi arrabbiate ho fatto anche un video dicendo che la rabbia invece va canalizzato dice ma che fai adesso ti stai contraddicendo io sto dicendo non vi arrabbiate come prassi come disco rotto cioè se una tantum l'avete mandato a quel paese perché non ne potevate più avete fatto bene perché insomma ripetisco le emozioni se avete accumulato rabbia un giorno non ce la fate più lo vedeva col paese fatelo e finisce la storia perché le emozioni vanno canalizzate quando invece si riesce a gestire l'emozione si può gestire come vi sto dicendo con la tecnica del mirroring ecco la tecnica dello shocking wave quindi quando lui vi fa la triangolazione con un'altra donna oppure vi snobba oppure che ne so fa la parte dell'uomo super impegnato che non vi vuole rispondere vi tratta con sufficienza oppure mai sia cosa che un uomo non dovrebbe fare mai vi da buca ad un appuntamento adesso vediamo tutti questi casi come si risponde allora se lui sta triangolando con un'altra voi triangolerete voi con un altro ma non in maniera velata in maniera proprio da shocking a onda d'urto cioè tipo proprio che lo chiamate e dite io stasera non sono a casa se siete la moglie perché esco con gino chi è gino un mio amico ed è pure molto carino c'è così ma shocking way però non dite che io vada a letto perché sennò è come un'auto liquidarsi no cioè dovete mettere sul piano tutte le condizioni possibili immaginabili come che lui deve arrivare a fare che uno più uno fa due cioè come avrei ma tu mi stai tradendo con un altro tranne la deduzione finale che io ti sto tradendo con un altro cioè non è che tu devi andare da lui devi dire io stasera scocoggino che un bellissimo uomo e me lo porto a letto perché sennò quello ci va buona fai da quello che vuoi da me lo devi spiazzare cioè l'idea l'onda d'urto è lui che si deve sentire insicuro è un cretino cioè tu gli dai l'onda d'urto e fai questo lui ha triangolato con l'amica o mette mi piace che siamo scema con l'amica la ex che lo chiama e ti fa passare a te come quella gelosa come quella insicura cose pare tu quando fa queste cose non battere ciglio anzi lo devi invita devi dire da quanto tempo non ti vedi con lei ma perché non ti va a prendere un caffè così vi salutate no perché se se poi vi prendete un caffè io ti volevo dire comunque io stasera non sono disponibile perché stasera vedo con gino ma tu hai capito chi è gino ma è uno bellissimo è uno così 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 e chiaramente poi voi avrete un contatto di un bell'uomo insomma di un qualcuno che sia decente e create voi la competizione con lui se lui fa qualche battutina a quel punto farete mirroring e direte che lui è insicuro che lui è troppo geloso dicendo che voi non state facendo niente di male che lui ha un modo di fare controllante che è diventato pressante che vi sta sfissiando che non c'è niente di male avere un amico che fra voi questo amico non c'è niente però ricordate un secondo prima voi avete fatto la battuta che esco con gina ma tutte le mie amiche dicono che proprio un figo della madonna cioè lo dovete spiazzare a quello non da durto perché lui si abbusta lo scaffone in faccia però quello lo tranquillizzate ok oppure dalle io stasera sono se voi siete abituate ad uscire con lui che ne so io ogni venerdì dalle 9 alle 11 un'altra onda d'urto è che improvvisamente c'è una modifica una modifica dove lui non deve sapere niente di voi cioè dite io stasera io sono impegnatissima sono impegnatissima non lo so mi devo vedere con persone uomini cioè uomini non tanto per non lo so per questo lavoro non mi posso non posso stare con te scusami non mi dire niente non posso non ci possiamo vedere scusami scusi troncare il discorso velocemente quando lui si attacca a parlare a fare scusami non mi direi niente sto impegnati mi fai lavorare anche sullo scorciato scusa mi fai lavorare adesso grazie ciao ciao va bene ciao 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 chiaramente così sono comportamenti odiosi non andate a tenerli credendo di sedurre un uomo se questo uomo si sta comportando bene con voi perché vi manda col paese se è normale c'è un uomo se lo trattate così e invece si sta comportando bene c'è un modo scorretto non è neanche sedurre significa soltanto tirarsela fare la cretina l'odiosa invece questo è un comportamento a tenere da nei confronti di chi vuole mettervi vuole mettere voi in una situazione di imbarazzo e vuole triangolare quindi ripetendo molta sicurezza in se stesse sentitevi belle curatevi che ne so io cambiate la foto profilo mettete una bella foto molto 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 seducente cambiatela spesso cioè che lui deve dire ma questo perché la cambia spesa chi si deve fare vedere no e poi una situazione in cui voi dovete avere la la saccenza di avere già tutto quello che voi basta nella vita cioè lui è un surplus lui un surplus quando poi vengono fuori dinamica dove lui si vuole attaccare vuole fare troncate via 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 il treno passa cioè ve la dovete credere cioè dovete camminare come tre metri da terra quando fate mirroring un'altra cosa che li fa in bestialire è esattamente ma quando io dico mirroring dico mirroring non dico fai più o meno come fa lui no se lui ti ha detto ti ha scritto un messaggio in cui ti ha scritto tu sei troppo gelosa mi stai pressando non è come credi smetti la sei pazza tu gli devi scrivere lo stesso messaggio che lo deve infilare nel discorso ma le stesse parole cioè che lui si deve proprio sentire preso per i fondelli lo devi prendere per i fondi cioè devi prendere l'uomo pam 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 lo devi palleggiare poi ci devi giocare pam 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 questo innanzitutto ti farà scadere la tua rabbia la tua rabbia la trasformi in una sorta di divertimento chiaramente però un rapporto del genere sappi che o è destinato un po a ravvivare il rapporto ma se se lui fa sempre così sappi che insomma il mio consiglio quello di chiudere un rapporto del genere perché è un rapporto che non porta niente uno si mette a fare queste tattiche una volta due volte però se poi il tuo se tu intendi portare avanti il tuo rapporto sempre soltanto con queste tattiche vuol dire che il rapporto non va da sé perché ricordatevi sempre che un rapporto uomo donna un rapporto di coppia deve fluire da sé ci può essere un intoppo ogni tanto ma se è una costante vuol dire che tu e quella persona lì non vi prendete se c'è soprattutto all'inizio se una relazione che ne so dopo 15 giorni già inizia a stridere nei suoi ingranaggi fatti la domanda fai questo gioco qui mentale in cui tu ti dici guarda io un mese fa questo manco lo conoscevo cioè dopo un mese questa persona mi sta già dando tutto sto fastidio perché è quello che lui ti dà è fastidio è fastidio e tu devi imparare a conoscere te stessa per gestire il fastidio che lui ti dà quindi sfrutta l'uomo che ti dà fastidio per conoscere meglio te stessa non tanto per tenere lui perché non non ci guadagni niente non ci guadagni niente da un uomo del genere da un uomo del genere puoi soltanto metterti alla prova mettere alla tua alla prova la tua pazienza la tua capacità di gestione non lo so della gelosia delle tue insicurezze personali della tua rabbia della tua ira e le devi ribaltare completamente contro cioè lo devi trattare a specchio come ho detto non so se ti riesce allora e comportarsi a specchio è più facile rispetto alla tecnica della shocking wave cioè della onda d'urto la onda d'urto e anche se tu sei abbastanza tranquilla non dico remissiva però che magari se uno di quelle che diceva vabbè lui fai come vuoi così 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 l'onda d'urto sta anche per esempio improvvisamente e questo ti aiuta a scaricare la rabbia nel fregartene poco e niente nel dargli le peggiori risposte dell'universo cioè proprio a maltrattarlo proprio che ne so che se lui dice vabbè ma sei una cosa un po diciamo volgare se lui ti triangola con un'altra tu ridendo gli dici ma sai mai che cosa me ne frega cioè io con tutti quelli che mi posso prendere io c'è proprio così a sbeffeggiarlo dando per scontato come che proprio che lui che deve essere dietro di te ma lo deve capire lui questo chiaro la shocking wave e anche un ridimensionarlo bruscamente rispetto a quelli che lui crede essere i suoi punti di forza allora se lui è bellissimo voi voi fate questa cosa che magari conoscete uno che è molto più bello di lui parlate di quell'altro dicendo che è bellissimo la mia cosa si è scioccante fregandovene di ledere i suoi sentimenti fregandovene come se stesse con un'amica e passa uno strafico e voi dite madonna cioè senza freni sulla lingua è una cosa che magari una davanti al proprio marito ragazzo insomma si dà una regolata no invece voi lo trattate come se fosse un compagno un fratellone e poi dite mamma mia scusa però io purtroppo quando vedo qua ma è troppo bello oppure se lui si crede chissà chi nell'ambito del lavoro sminuite il lavoro che lui fa dicendo ma vabbè comunque ma non disprezzando quello che fai tu che è una parola intercalare odiosa quando uno dice non disprezzando non per offenderti ma io odio le persone che lo fanno e quindi se ve lo dite la dite apposta per diventare odiosa agli occhi suoi e per creare in lui insicurezza ma che ne so il cielo triangolate voi con qualcuno il mio amico è un professionista mamma mia guadagna un pacco di soldi lui così lui colla c'è una macchina così ma tu hai mai pensato di cambiare la macchina di farlo sentire di farlo sentire inferiore queste sono le tecniche diciamo proprio di base per ridimensionare lui è proprio per fare pace con voi stesse perché voi vi renderete conto che supererete anche sapete che certe donne sono state anche educate per essere sempre accondiscendenti per essere sempre brave per essere diciamo quelle serie se paragonate un'altra sembra quasi come che quell'altra è poco seria io invece sono più serie parte il giudizio qua voi invece non dovete giudicare la persona che sta triangolando vi sta triangolando lui voi dovete invece ridicolizzare ridicolizzare e farlo proprio che siete voi che triangolate con un altro ma lo deve fare in maniera molto 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 sfacciata molto 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 fare trovare le mutande in giccia cose ma che succede state state certe state certe che così vi sganciate anche da lui perché imparate la strafottenza la strafottenza è un'arte che non tutte le donne hanno perché la donna si incazza con l'uomo rinfaccia tu sei disonesto dopo tutto quello che ho fatto e miei presi in giro l'abbiamo fatto tutte quindi non sto giudicando voi non sto giudicando voi sto soltanto dicendo capitevi capite gli errori che avete fatto e che questi errori hanno portato l'uomo probabilmente a tenervi fatte perché una donna che lagna è una donna bisognosa ma non di un uomo ma proprio di lui e date lo scettro date il potere all'uomo che significa che dare il potere un uomo o dare potere un altro che cosa persona vi può fare a pezzetti se lui manovra i vostri sentimenti i vostri sentimenti possono essere distrutti e nessuno vuole vuole stare male i sentimenti devono rimanere a voi vanno dati non dico col contagocce ma vanno dati alle persone che vi trattano in un modo che vi fanno sentire a vostro agio e soprattutto vi fanno sentire apprezzate per quello che siete voi nella vostra semplicità nella vostra originalità unicità e ricordatevi un uomo che ci tiene a voi non mette non vi mette in competizione con un'altra donna un uomo che ci tiene a voi non vi mette in competizioni con un'altra donna se lo fa punitelo se lo fa umiliatelo se lo fa divertitevi alle sue spalle e beffeggiatelo perché sono ominicchi questi qui a me dispiace tantissimo quando io ricevo delle telefonate dove io sento donne distrutte che lui mi ha fatto questo che lui mi ha fatto quello dove io vedo purtroppo che l'autostima della donna si è andata a fare benedire e io cerco di tirarle su con delle tecniche non posso dire a tirati su e finisce lì non ci pensare e finisce lì no ci sono delle tecniche quindi devi imparare ad adorare adorare te stessa ti devi guardare bella bellissima ti dimentichi di lui te ne devi fregare se hai figli te ne devi fregare se lo conosci da vent'anni te ne devi fregare se hai una sindrome abbandonica o hai una calamita malata verso di lui perché se la calamita è malata tu la devi smagnetizzare e la devi re indirizzare verso te stessa dove invece tu devi calamitare a te le persone che ti fanno stare bene non uno stronzo gli stronzi vanno messi a posto i cretini i narcisisti i traditori i bambini bimbi minchia sapete quanti bimbi minchia ci sono che hanno 55 anni 60 i bimbi minchia di 60 anni bimbi minchia di 50 anni 40 ne vogliamo parlare ce ne sono tanti ce ne sono tanti impara a gestire il tuo tempo preziosissimo lui a quando tu capisci che ti sta triangolando lui lo devi trattare come una formica senza schiacciarlo lo devi trattare come l'ultima formica della colonia che lui si deve mettere se lui ha osato triangolarti con un'altra fare il cretino crearti in sicurezza tu lo devi trattare come l'ultima delle formiche della colonia avete presente la colonia e formiche la mulchina di pane si fa la la colonia lui si deve mettere in fila e deve aspettare che riesci a fare l'aperitivo con le mica poi devi lavorare e poi non puoi perché devi fare un bagno e poi tenti dimentichi di lui poi lo blocchi poi lo sblocchi e non gli rispondi al telefono poi se lo vuoi chiamare lo chiami se non ti risponde non te ne frega niente poi te ne esci con un altro e dici che quest'altro è bellissimo poi lo devi coglionare se lui poi sai che sei andata per una con un'altra per per farti lui il dispetto a cavallo del tuo è lì che tu ti devi mettere alla prova perché te ne devi fregare se lui ti triangola con un altro oltre a triangolare per farti il dispetto ti rende noto in qualche maniera tu vedi che se l'è pure fatta te ne devi fare una risata ha 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 e ti fai i fatti tuoi se vuoi uscire con un altro esci ma non è che per lo devi fare per dispetto a lui ti vedi un film su netflix e già me domani se mi vado uscire con uno esco se non mi va non mi va però a lui lo devi tenere sempre sulla sul carbone ardente cioè lo devi mettere proprio l'ultima formica della colonia proprio l'ultimo da che lui riceve una shocking wave un'onda d'urto micidiale perché lui invece è abituato a farti incazzare a tenerti legata a lui perché sa gestire quelle dinamiche tu invece così gli togli completamente il potere anzi devi essere tu che dici a me non importa a me di te di quella fai quello che vuoi scegli tu fai quello che vuoi faccio quello che vuoi cioè improvvisamente da che tu eri lagnosa dipendente insicura rinfaccione tu diventi una donna dalle larghe vedute che si fa i cacchiacchi i cacchiacci suoi i cacchiacci suoi ok non è necessario che poi tu te li faccia veramente perché non è che tu vai a comando se stai tranquillo ma che per forza te ne devi andare con un altro in senso biblico o andare a letto con qualcuno per fare il rispetto a lui perché quella sarebbe una reazione cioè la tecnica è un conto se ti va di farlo lo fai e ti fa pure bene se non ti va di farlo glielo fai credere non lo faccio sono fatti due a te quello che interessa è che lo devi pam 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 tamburellare lo devi tamburellare ok quindi la prima cosa da fare nel mirroring è replicare il suo tipo di comunicazione usare le sue stesse frasi comportarsi come si comporta lui se lui ti da buca non ti arrabbiare dagli buca pure tu se lui è impegnato per il lavoro fallo pure tu se lui triangola parla con le altre poi ti dice che sei pazza e sei gelosa non gli dire niente fallo pure tu ma fallo all'ennesima potenza cioè che poi magari legge pure il messaggio col cuoricino che gli ha mandato una fotografia bella sexy ti fai bellissima tu sei bellissima tu sei bellissima improvvisamente ti vede tutta profumata carina che va in giro fa la spesa dice questo doveva a parte che ti serve come autostima essere curata essere carina ed essere piena 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 il benessere la bellezza e l'abbondanza devono sgorgare devono sgorgare dalla tua persona devi essere molto femminile molto fai tu hai come un potere nel cassetto guardati magari tu mi ascolti hai il pigiama e ci abbatte non ti fai una piega i capelli dal 1980 guardati puoi migliorarti fallo per te stessa vedrai che si attivano poi a catena una serie di altre forze che sono dentro di te che sono dormienti vati a fare le unghie vati a fare i capelli truccati fatti carina va in giro sorridi agli uomini quando un uomo ti tratta male tu esci fatti carina e sorridi agli uomini vedrai che gli uomini ti ricambieranno questo sorriso non c'è bisogno che tu faccia chissà che e ribadisco non fare le cose tanto per reazione sorridi agli uomini tornerai a casa con un bagaglio di sorrisi di uomini che ti hanno che ti hanno ricambiato che si stanno interrogando su di te ma chi è quella che oggi mi ha sorriso così così e inizia a gestire il tuo potere femminile inizia da un sorriso inizia da uno sguardo ok e lui mettilo in stand by per un po quando lui ti fa stare male trattalo come l'ultima formica della colonia ti svegli la mattina e ripete a te stessa io questo qui manco lo chiamo per nome lo tratto come l'ultima formica della colonia a fri trattarlo come l'ultima formica della colonia a un certo punto sei la persona sbagliata per te te ne scordi pure perché ci metto questo stangolo qua e ti ricordi ma io veramente per questa persona mi sono arrabbiata mi sono avvelenata gli ho dato tutta quella soddisfazione allenta allenta lui triangola non gli dire più niente fai quello che vuoi sai che c'è a me di te di quello non me ne frega fate quello che volete io c'ho da fare io c'ho da fare sono impegnatissima scusa non posso parlare ciao questo proprio gli toglie potere ed è una shocking wave terribile terrificante e poi di scimmiottare i suoi atteggiamenti le sue frasi le stesse 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 però glielo devi fare in una maniera da prenderlo per i fondelli cioè se lui ti ha detto stamattina una frase che a te ti ha urtato tu nell'arco della giornata gliela devi dire cioè perché lui deve agganciare il fatto che dice ma come cosa stessa cosa che ho detto io per prenderla per il culo ma dice lì a me lui si sente preso per il culo capito ti assicuro vi assicuro che per fare rosicare un uomo la tecnica del mirroring e la tecnica dello shocking wave sono tremende funzionano sempre ma ricordatevi una due volte per mettere alla prova per vedere se si raddrizza la cosa se poi è un continuo diciamo è sconsigliabile continuare un rapporto con un uomo che vi triangola che fa lo stupido io vi dico troncate finisce la storia ok allora vi ringrazio fatemi sapere se vi piace questo nuovo genere di video adesso metto subito il titolo e lo vado a caricare un bacione lasciatemi tanti commenti va bene così poi affrontiamo altri argomenti se mi volete fare domande su questi argomenti qui io vi rispondo e vi faccio il video un abbraccio ciao